Musica Mattanza di Daini a Ronco Sambaccio di Fano sbranati 17 animali da un branco di lupi In goia gli ovuli di eroina per sfuggire ai controlli della polizia 43 anni arrestato due volte per spaccio di droga Da domani 5 comuni delle Marche saranno in zona arancione rafforzata Scuole, negozi aperti ma spostamenti solo in caso di necessità Il sindaco di Vallefoglia invita i cittadini alla responsabilità e lancia un appello alla regione E' pronta per i vaccini la zona industriale di Talacchio Intervento record senza precedenti Sulle strade della provincia di Pesero Urbino L'annuncio dell'assessore regionale Francesco Baldelli In arrivo dall'ANAS 43 milioni di euro Fano è un comune virtuoso e tra i meno indebitati Parola di sindaco e assessore che hanno illustrato il rendiconto 2020 Chiuso con un avanzo di 36 milioni di euro Nuovo look per lo stadio Mancini di Fano Operai al lavoro, per la gradinata ospiti E per una nuova luce scenica A giorni la demolizione delle vecchie torri faro Buonasera e benvenute a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia In primo piano i lupi che si avvicinano sempre più ai centri abitati A Ronco Sambaccio questi animali selvatici hanno sbranato 17 daimi Dopo gli attacchi registrati a Monbaroccio e Monte Felcino La scorsa settimana i lupi hanno colpito ancora Ma questa volta a Ronco Sambaccio A circa 30 metri dal centro abitato E questa è la scena che oggi si è presentata di fronte ai nostri occhi Forse mai vista prima nella città di Fano Un branco di lupi ha sbranato 17 daimi Nell'incredulità di Monica Che tiene questo allevamento amatoriale Seguendo le orme del padre che cominciò 40 anni fa Solo 4 bestiole si sono salvate 2 maschi e 2 femmine ancora impauriti Gli altri che hanno lottato con tutte le forze per salvarsi Purtroppo non ce l'hanno fatta C'è chi è morto di infarto E chi per sfuggire alla furia dei lupi Ha provato a scappare sfondando questo cancello in vano Ed ecco quello che è rimasto Carcasse a terra, parti di organi e mucchi di pelo ovunque Sulla cenere invece le impronte ben visibili e profonde delle zampe dei lupi Più in su, infine vicino all'ingresso I corpi dei daimi che dovranno essere smaltiti Portati lì da chi li accudiva con amore da tanti anni È successo nella notte tra venerdì e sabato E poi tra sabato e domenica Quindi abbiamo avuto in verità tre attacchi Perché anche stanotte sono tornati Non hanno ucciso altri capi Però hanno continuato il passo Iniziato il giorno prima Ed erano di varie età C'erano daini che erano con noi da 12-15 anni C'erano daine che erano incinta C'erano dei cuccioli E appunto 4-5 di questi sono stati completamente Cioè quasi completamente mangiati Mentre gli altri sono stati solo uccisi E questo è il punto in cui avrebbero scavalcato Nonostante la rete alta 2 metri Piegata verso l'esterno Presente in tutto il perimetro Dei 4 ettari di terreno I lupi avrebbero utilizzato quel terrapieno Per prendere lo slancio Saltare ed entrare Poi è venuto anche ovviamente Il servizio veterinario a verificare Con varie strumentazioni Insomma anche per capire il tipo di morso Il tipo di attacco Ci hanno purtroppo confermato che sono lupi E loro hanno attaccato al collo Quindi la giugolare e la carotide E poi l'animale viene soffocato E a quel punto cominciano a dilaniarlo Dal fegato eccetera Siamo preoccupati, prosegue Monica Perché abbiamo paura Che i lupi possano tornare ancora Per finire l'opera Ma qui nessuno sa dirci cosa possiamo fare Visto che si tratta di specie protette Ad oggi infatti non esistono strumenti davvero efficaci Che gli allevatori o i privati cittadini Possono utilizzare per difendere se stessi E i propri animali Io so dove passano So che tornano la notte Ma non so come fare per fermarlo Tranne provare a mettere delle paratie Qualcosa Ma quando gli bloccherò quel passaggio Ne troverà un altro Perché poi i lupi sono molto furbi E quindi siamo preoccupati Perché le notti in bianco aumenteranno E non siamo preparati E quindi un'aggressività importante Branchi di lupi Perché non sono due Sono probabilmente cinque Adesso non abbiamo il numero preciso Ma sembrerebbe così Che girano per le nostre valli Anche in pieno giorno Li hanno avvistati in questi giorni E noi siamo in balia di noi stessi Perché ecco il fatto che loro non attacchino l'uomo È una statistica Non è una certezza E la polizia di Pesaro Ha arrestato per detenzione Ai fini di spaccio Un 43enne che ha ingerito Tre ovuli contenenti eroina L'uomo era già stato arrestato La scorsa estate I particolari nel servizio di Letizia Marchionni È stato arrestato Per detenzione di stupefacente Ai fini di spaccio Il 43enne extracomunitario Irregolare sul territorio nazionale L'uomo era già noto alle forze di polizia In quanto la scorsa estate Era già stato tratto in arresto Dalla squadra mobile di Pesaro Che lo aveva sorpreso Alla stazione ferroviaria In possesso di due ovuli di eroina Contenenti circa 11 grammi Dello stupefacente Per il tipo di reato commesso La legge nel caso specifico Non prevede la custodia cautelare in carcere Di conseguenza Era stata applicata La misura del divieto di dimora Nella provincia di Pesaro Urbino E l'uomo era stato rimesso in libertà Nel pomeriggio del 15 aprile scorso Gli investigatori hanno notato nuovamente Il 43enne nei pressi della stazione di Pesaro L'uomo stava violando il divieto di dimora E gli agenti Sospettando che anche in quella circostanza Potesse avere con sé Dello stupefacente Lo hanno sottoposto ad un controllo Visto lo stato di grande agitazione Del 43enne I poliziotti hanno deciso Di approfondire le verifiche Accompagnandolo presso il pronto soccorso Per degli esami diagnostici Temendo che avesse ingerito degli ovuli In effetti Gli esami medici hanno evidenziato La presenza di alcuni corpi estranei Nello stomaco dell'uomo Che a quel punto Ha ammesso di aver ingerito Tre ovuli Contenenti circa 15 grammi di eroina Di conseguenza Il 43enne è stato tratto in arresto Per detenzione di stupefacente Ai fini di spaccio Ieri mattina L'autorità giudiziaria Ha convalidato l'arresto Ed ha emesso a carico dell'uomo Un nuovo divieto di dimora Per le regioni Marche Ed Emilia Romagna Quattro veicoli sono rimasti coinvolti In un tamponamento a catena Che si è verificato oggi pomeriggio Lungo la Flaminia a Calcinelli In direzione nord All'altezza di via Villa Franca In base ai primi accertamenti Da parte della polizia locale Di Colli al Metauro L'incidente è stato provocato Da un veicolo che non ha frenato in tempo La vista della lunga coda di auto Formatasi a causa della deviazione Per il lavoro in superstrada Un anziano di 72 anni È rimasto levemente ferito Ma ha rifiutato le cure dei sanitari Sul posto anche i vigili del fuoco Per la messa in sicurezza Dei mezzi coinvolti In particolare di un'auto Alimentata a GPL E un altro incidente Ma senza feriti Si è verificato questa mattina Intorno alle 9 Sempre lungo la Flaminia a Fano All'altezza della farmacia Ercolanico È involte nello scontro Un'auto Una Fiat Panda Che vedete in questa fotografia E un furgone Sul posto la polizia locale di Fano Ma i conducenti hanno proceduto Poi con il modulo di constatazione amichevole I vigili urbani sono intervenuti Anche sulla statale adriatica In Viale Romagna Sempre in mattinata Dove il traffico è andato in tilta A causa di un furgone in avaria Al semaforo del Lido E adesso i dati sul Covid Nelle Marche Nelle ultime 24 ore Sono morte 10 persone con coronavirus Tra le vittime Anche un pesarese di 88 anni Invece tra le nuove diagnosi I positivi sono 211 In testa con 67 nuovi casi E la provincia di Pesero Urbino Seguita da quella di Ascoli Piceno Con 46 Negli ospedali della regione Ci sono 25 ricoveri in meno Rispetto a ieri I pazienti in terapia intensiva Scendono a 85 Mentre quelli in semi intensiva A 170 Ed è stato firmato oggi L'accordo tra regione Marche E farmacie Non appena i farmacisti Avranno terminato La formazione specifica E saranno abilitati Alla somministrazione Partirà la campagna vaccinale Appunto anche in questi In questi punti Nelle farmacie L'accordo che sarà valido Fino alla fine dell'anno Prevede che al farmacista Venga riconosciuta La remunerazione pari a 6 euro Per ogni somministrazione Alla quale sarà aggiunto 1 euro Per le funzioni organizzative Per i dispositivi Di protezione individuale E per i materiali Di consumo E sappiamo Nonostante i dati Della regione Marche Siano da zona gialla Da domani A domenica Prossima 5 comuni Delle Marche Finiranno in zona rossa O comunque Nella zona arancione Rafforzata Tra questi C'è anche il comune Di Vallefoglia Il sindaco Palmiro Ucchielli Invita i cittadini Alla responsabilità E lancia Un altro appello Alla regione Affinché Vengano eseguiti I vaccini Nella zona industriale Di Talacchio Angelica Panzieri Da domani Mercoledì 21 aprile Quattro comuni Della provincia Di Pesaro Urbino Diventeranno russi Si tratta Di Vallefoglia Tavuglia Monte Labate E Acqualagna Ad essi si aggiunge Cerreto Desi Un comune Della provincia Di Ancona Sono questi Territori In cui si è registrato Un'incidenza Superiore All'indice Di riferimento Dei 250 Contagi Settimanali Ogni 100.000 Abitanti L'ordinanza Emessa dalla regione Vieta dunque Da domani Fino a domenica 25 aprile Compreso Ogni tipo Di spostamento Dalla propria Abitazione Non si potrà Uscire Nè entrare All'interno Di questi comuni Se non per motivi Di necessità Salute Studio O lavoro Rimarranno invece Aperte le attività Economiche E le scuole Come già previsto Per la zona arancione E occorrerà In questi cinque giorni Far sempre uso Dell'autocertificazione Per giustificare I propri spostamenti Una decisione Che ha colto di sorpresa Anche il sindaco Di Vallefoglia Palmiro Occhielli Che lancia di fronte Alle telecamere Di Fano TV Un ulteriore appello Ai cittadini Per far sì Che rispettino Le regole Tentativo È quello di evitare La regione L'ordenanza Tramante In vista delle riaperture In presenza al 100% Proseguito Ricci Occorre che il modello Pesaro Venga esteso In tutta Italia Ed è già stato Avvisionato dal ministro Bianchi Siamo pronti Annunciato il sindaco A ripetere Un quarto turno Nel mese Il virus Il virus ha influito Sulle scelte del comune Che nel corso dell'anno Ha provveduto A una doppia manovra Di salvaguardia Di cui l'ultima Ad ottobre Rivedendo le priorità Tra queste Le agevolazioni Sulla tassa Sui rifiuti Per le famiglie E le imprese in difficoltà Quasi mille in totale E i rimborsi Della TOSAP La tassa Per l'occupazione Di spazi A repubbliche Per aiutare ambulanti Ed esercenti Inoltre Fin da subito Sono stati messi in sicurezza I servizi educativi E sociali Tagliando le spese Ritenute superflue In particolare Nel settore della cultura E degli eventi Tra cui la Fano dei Cesari Il comune di Fano Ha un bilancio virtuoso Chiude In modo importante Con un avanzo Di amministrazione Che sottolinea La sua capacità Di recepire risorse E mettere in campo Progetti Perché Il risultato Tra Diciamo Parte vincolata E parte libera È di 36 milioni di euro E la grande maggioranza Di queste Sono risorse Già Destinate A opere O a Diciamo Servizi Trasversali A tutta l'amministrazione Che L'amministrazione È stata capace Di recepire Con La contribuzione Con il contributo Di altri Soggetti Tra cui Soggetti Bandi europei Ministeriali E Diciamo Risorse Comunque Che possono Sottolineare La capacità Del comune Di Fano Di dialogare E di recepire Importanti risorse Che fanno Investire Sul nostro Territorio Per l'approvazione Del bilancio Ci spiega L'assessore Ora manca L'ultimo step La delibera Verrà presentata In consiglio comunale Mercoledì 28 aprile Nell'arco Dello scorso anno Circa un milione Di euro È stato impiegato Per la riapertura Dei centri estivi Delle scuole a settembre Oltre 2 milioni Invece Sono stati Destinati Ai servizi sociali Cioè Ai buoni alimentari Alla rete locale Di solidarietà E alla conversione Dei servizi educativi A domicilio In quelli a distanza Per i lavori pubblici Invece Sono stati spesi Oltre 6 milioni Di euro Dalle scogliere Di Sassonia All'adeguamento Dello stadio Mancini Dalla scuola Di Cuccorano Carrara All'immobile Di Gimarra Per fini socio-culturali Oltre ai lavori Di adeguamento Di spazi A ole didattiche In base alle nuove norme Anticontagio Ottima Detto il sindaco Anche la velocità Nei pagamenti Che vengono eseguiti In media In soli 22 giorni Questo è un comune Parsimonioso Ben amministrato È tra i comuni Meno indebitati È tra i comuni Che ha la menor incidenza Del costo Della spesa Anche della sua Organizzazione Ma quello che mi piace Sottolineare È anche Gli investimenti Che faremo Perché con l'avanzo Che abbiamo conseguito Ci sarà La corsa finale Per questi Tre anni Di mandato Che ci rimane ancora Per delle grandi opere Importanti Che si abbineranno Con quelle A cui abbiamo partecipato Ai bandi ministeriali In particolare Ripartiremo anche Con importanti manutenzioni Dalle strade Alcuni milioni Per nuove asfaltature Quindi tutte quelle strade Che in più occasioni Anche attraverso Fanotv Ci avete richiamato Verranno Asfaltate Opere di riqualificazione Del centro storico Ulteriori Lungomare Il waterfront Quindi tra Torrette, Ponte e Sasso E Sassogno e Lido Quindi ulteriori investimenti Per cui anche Nei prossimi anni Faremo cose importanti Per lo sviluppo Di questa città E per soprattutto Renderla sempre più bella E sempre migliorando La qualità della vita Un investimento Senza precedenti Per le strade Della provincia Della provincia Di Pesero Urbino E quanto annuncia L'assessore regionale Francesco Baldelli In arrivo dall'ANAS Oltre 43 milioni Di euro Per asfalti Ponti, gallerie E illuminazione I lavori verranno Eseguiti Nel giro di pochi mesi Si apre una stagione Molto importante Per la nostra regione In modo particolare In questo momento Per la nostra provincia Oltre 43 milioni Di euro Di investimenti Per le nostre strade Non era mai successo In precedenza Non si parla soltanto Di asfalti 19 milioni Ad essi dedicati Ma 15 milioni Ad esempio Di euro Dedicati alla sicurezza Delle nostre gallerie Della loro illuminazione Della messa in sicurezza Delle scarpate Di barriere E sparti traffico E ben 9 milioni Invece di euro Per la sicurezza Dei nostri ponti E dei nostri viadotti Interventi Che realizzarà ANAS Alcuni di quali Già iniziati Come quelli Lungo la strada Statale Valcesano Ma numerosi Altri interventi Che termineranno Tutti entro ottobre Del 2021 Numerosi interventi Su ben 10 strade Della nostra provincia Le strade interessate Saranno La strada statale Flaminia Con investimenti Per oltre 20 milioni di euro Bocca Trabaria Con 7 milioni E 600 mila euro La strada statale Adriatica Con 2 milioni E 600 mila euro La strada Statale Valcesano Con 3 milioni E 400 mila euro L'Urbinate Con 2 milioni 800 mila euro La Pecchiese Con 723 mila euro La strada Della Contessa La Fogliense Per 3 milioni E 300 mila euro E la Metaorense E la Monte Labattese Ciascuna Con un milione E mezzo Di euro Quindi Interventi Importanti Che fanno Il paglio Con un'altra notizia Molto importante Per il nostro territorio Ossia La nomina Del commissario straordinario Per il completamento Dell'incompiuta Delle incompiute La nostra Fano Grosseto Sulla quale ancora Ci sarà molto da lavorare Perché l'intenzione Della regione È di proporre Al governo nazionale Di tornare al progetto originario 4 corsie E con la doppia galleria Alla guinza Perché altrimenti Tornare Al completamento Di una superstrada Facendo confluire Il traffico Sulla strada ordinaria Potrebbe provocare Problemi di sviluppo economico Per il nostro territorio E allo stadio Mancini Di Fano Proseguono i lavori Di ammodernamento Della tribuna Ospite Delle torri Faro Soddisfatto Il vice sindaco Cristian Fanesi Tutti particolari Nel servizio Di Filippo Pucci Nel quartiere San Lazzaro Più precisamente Allo stadio Mancini Di Fano Proseguono spediti I lavori di restyling Della struttura sportiva Dopo la nuova copertura Della tribuna centrale Ora sono le tribune Ospiti Ad essere prese In considerazione La prima parte Dei lavori Vede la realizzazione Da nuovo Di 500 posti Per poi In un secondo momento Completare I restanti A lato monte La ditta GM Costruzioni Sta facendo Un ottimo lavoro E sta andando avanti Su due filoni principali Il primo filone È quello del rifacimento Della gradinata Sul lato lungo Dello stadio Mancini Per ospitare Gli ospiti Delle partite Dopo che Due o tre anni fa I vigili del fuoco Avevano Come dire Mostrato Alcuni problemi Sul calcestruzzo Che è stato Completamente rifatto Saranno fatte Sotto la Gradinata Sia i servizi igienici Sia Un nuovo punto ristoro Per accogliere Gli ospiti Nel giro Di alcuni giorni Invece Verranno posizionate Quattro nuovi torri Di illuminazione Che saranno poi installate Grazie all'ausilio Di Potenti Gru Dando così Al campo sportivo Una luce scenica Durante le partite notturne Costo totale Dei due interventi 800.000 euro circa Sostituiremo E demoliremo Le vecchie torri faro Facendo nuove torri Che daranno Una luce Molto più opportuna E comunque Corrispondente Alle richieste Della Lega Pro Allo stadio Mancini Che a quel punto Diventerà Veramente interessante Perché dopo i lavori Che stiamo facendo E che concluderemo Nel mese Di aprile maggio Dopo aver fatto Anche la copertura Della tribuna centrale Lo stadio Mancini È a posto Perché possa Sopportare Le sfide Che il Fano Calcio Vorrà fare Nei prossimi giorni Gli eventi Per i 150 anni Dalla nascita Dell'attore fanese Ruggero Ruggeri Sono rientrati Nel novero Delle grandi celebrazioni Per i personaggi Marchigiani Più illustri Oggi infatti Il consiglio regionale Ha approvato Un emendamento Di Marta Ruggeri Che è stato inserito All'unanimità Nel piano triennale Della cultura 2021-2023 Sono soddisfatta Del risultato Ha affermato La capogruppo Dei 5 Stelle Perché la figura Di Ruggeri Fra i maggiori Interpreti Pirandelliani Merita di essere Considerata Un'eccellenza Culturale Di essere Ricordata Dalla sua Città natale La ricorrenza Sarà celebrata Metà novembre Con un paio di conferenze Una mostra fotografica E il dramma Enrico IV Di Luigi Pirandello Da mettere in scena Al Teatro della Fortuna Dove Ruggeri Recitò a suo tempo A fianco di Paola Borboni E anche questa sera Apriamo l'album Di Fano TV Per fare gli auguri A Bice Errino Tonelli Di Barchi Di Terre Roveresche Che domenica scorsa Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Auguri da tutti i familiari E dallo staff Di Fano TV Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi Una nuova puntata Di Guarda chi c'è Condotta da Paolo Notari E dedicata A un'azienda di colli Al Metauro Esperta di passamaneria E decorazioni Protagonista Pier Giovanni Vitalini In arte Piero Forza Giovane Allora buona serata Con i nostri programmi Arrivederci